e bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono Ricky Gasgas e quest'oggi torniamo su Alienware, allora rega notate qualcosa di strano? beh si siamo in Alienware per alfa perchè ho deciso di portare anche le alfe si, non compresa alfa 4 perchè se no mi crasha tutto il computer perchè già non mi crashava quando registravo più, vi dobbiamo se non mi crasha tutto niente beh facciamo quest'alfa insieme anzi finiamo quest'alfa insieme speriamo allora qua ok ci facciamo gattolare boom eccoci allora incominciamo a giocare oh Dio allora una cosa due di qui attiriamo da un'altra parte si anzi no proviamo a salire su io non puoi mai salire allora su sta finestra ecco allora mettiamo qua mi pare zoomato tipo stavolta non lo so perchè allora proviamo a salire ok oh io ho fatta rega oddio la prima volta allora pigriamo piglio il suo martello se no mi fai incacchia piglio assolutamente il suo martello ok rega a me le alfe fanno a 1 un po' tranne l'alfa 2 quindi corri 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 dai e gli ho sti piedi quanto mi muovi basta che fai una camminata e dai allora appoggiamo sto martello qui rega io già sto tremando con il mouse ho paura che mi esca fuori mamma mia allora già vediamoci le porte in faccia se nemmeno se non si si allora noi cosa possiamo fare adesso mettiamo a sveglia eh e si dai io voglio a sveglia E' piccolissimo pulgher Oh cavolo è la sveglia Oh cavolo è la sveglia Oh Allora aspettate un secondo Allora No qua non c'è il comodino In quest'altra ancora non c'è il comodino Allora Mettiamo di la gara adesso tutto No no si sposta di si Dovevo entrare Oddio Oh madonna Oddio Oddio Mamma mia C'è mi avete sentito eh Non per diviniti Che spavento Allora 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 Lui sta sempre lì a guardare la televisione Dove sta? No 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 Oh Dove sta? Ai cacchio Ah no Quella è la scuola Ok Scappa 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 Allora Ricapitolando Ehm Sì non so parlare oggi Perché sono un paurino Mamma mia Poi se Quando devo fare il video alfa 1 Cioè dopo questo Mamma mia Lì Lì ci sarà da dire tutte le parole C'è il mondo ovviamente Mi prendo sempre i colpi In quella In Grazie a tutti. Allora, stiamo a 4 minuti di registrazione. No, no. Col cavolo. No, la notte? Sì, sì. Credeci. No. Oh, ma c'è un giorno un po' bello? Come dire? Sì, la notte. No, ok. Ciao, Ciro. Oh, mia. Se si è pronto. Sai che qua dovremmo fare la seconda parte. Ok. Forse, magari. Anzi, sì. No, no. Mamma, riposati subito, addormentati. Eh, allora. Proviamo. No! È vero, mi toglie il martello, ma dai. Che sfiga, che vita. Che sfiga. Che sfiga. Oddio. Adesso è lì. Allora, allora. Non so muovere i mouse e testerelli. No, no, no. No, no, no. No, no. Qua ci vuole assolutamente la seconda parte. Col cacchio. No, rega. No, 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 no. Vabbè. Dai. Eh. Vicino, lasciamo in pace. Bello, vicino. È stato un piacere conoscerti. Ma detto questo, spero che questo vi sia piaciuto. Se vi lasciate un po' e ci mangiare iscrivetevi al canale. E naturalmente attivate anche la campanella perché mi hanno sempre aggiunto qui. Su questo, Hello Neighbor, e anche su Fortnite, rega. Evento Doomsday tra due e tre giorni. Mi dicono queste cose? Ma sei stupido. Scemo, vicino. Ma che bella giornata era adesso, dai. Vabbè. Detto questo, spero che vi sia piaciuto. Arriverà in Evento Doomsday tra due giorni. Video subito. E che cacchio hai fatto? Perché è spaccato la finestra? Vabbè. Arriverà la seconda parte anche sulla pre-alfa, rega. Ma detto questo, bella rega. Ciao.